Il 2015 è entrata in vigore una nuova normativa che obbligava gli enti locali a redigere i bilanci secondo criteri diversi rispetto al passato. E quindi alcune voci di bilancio che facevano risultare in equilibrio i conti in realtà non potevano essere più inserite a bilancio. E quindi la cancellazione di tutti quei residui attivi e di tutte altre voci di bilancio che risultavano in entrata ma che in realtà non si realizzavano mai. Quell'importo sommato alle mancate riscossioni negli anni ha determinato questa situazione deficitaria dell'ente. Voci di bilancio non corrispondenti al vero inserite negli anni per far risultare i conti in equilibrio e poi le numerose mancate riscossioni di tributi. Una situazione debitoria quella del comune di Andrea conosciuta da tempo ma che a detta degli esponenti di Forza Italia volutamente non era stata fatta emergere. Ora con l'approvazione del rendiconto di esercizio del 2018 da parte dell'amministrazione commissariale è stata messa in atto un'operazione verità. Sono stimate in 77 milioni e 800 mila euro le perdite per un debito che dovrà essere ripianato nell'arco di 15 anni grazie al ricorso alla procedura del piano di riequilibrio pluriennale. Per una soluzione che era stata prospettata proprio dagli azzurri. Noi l'abbiamo sempre pretesa dal momento in cui nel 2018 c'è stato sottoposto anziché un equilibrio di bilancio un disequilibrio di bilancio e abbiamo chiesto che si ponesse rimedio a quella situazione finanziaria con il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale. Stiamo stati noi a pretenderla e il dato che balza subito agli occhi di quello che noi diciamo è che quella delibera non reca la firma dell'assessore o del sindaco. L'approvazione del rendiconto di gestione del 2018 è giunta a quattro mesi dall'insediamento ad Andria del commissario prefettizio Gaetano Tuffariello. Un'entrata in scena è venuta a seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio Comunale e della caduta dell'ex sindaco della città Nicola Giorgino, sancita dalla mancata approvazione del bilancio di previsione finanziario anche per via dell'appoggio non dato dagli esponenti di Forza Italia. Erano state poste in entrata delle voci che non dovevano essere ancora più poste, non erano state previste delle voci in uscita che invece dovevano essere previste. Tutto quello che noi abbiamo detto e documentato agli atti sta trovando riscontro nei provvedimenti approvati quindi da un organo terzo, da un organo commissariale. Quindi questo legittima la posizione di Forza Italia a discapito di quello che invece sosteneva l'amministrazione. Quindi non era un fatto personale o politico ma era un fatto amministrativo. Probabilmente dal punto di vista politico era un loro problema. Probabilmente volevano fare a meno di Forza Italia e non avere più alleati con il loro nuovo idolo, il nuovo loro leader sovranista. E avevano fatto mali conti sia loro così come Salvini. Grazie.